Eccoci qui in diretta per il tredicesimo torneo delle contrade Memorial Nicola Vianello. Oggi è l'ottava giornata dove giocheranno il Cavio contro Treporti per la prima partita e seconda partita Cappasqualli-Caballarin. Quindi fra un attimo metteremo le formazioni. Grazie a tutti. 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 Claudio direttamente di nuovo per Ballarin, Ballarin di nuovo per Claudio. Passano direttamente in attacco per Soccolo. Soccolo tira ma viene impattato con un difensore avversario. Ecco però ruba la palla Ivone che ha intrufolarsi nelle maglie difensive e con un puntone a far gol. Al terzo minuto del primo tempo in vantaggio il Cavio 1-0 sul Treporti con il gol di Molin Valentino. Grande Valentino che è riuscito tra due uomini a Finotello Claudio. Finotello Claudio torna indietro a Marco Ballarin. In avanti subito perdonato ma purtroppo la palla si spegne a fondo campo. Palla di nuovo per il Cavio con Dallapuppa. Dallapuppa in avanti per Ivo Nesto. Si gira, passa Valentino, Valentino indietro da sponda per tutte le incursioni poi dei suoi compagni. Anche adesso si è girato, stoppando il pallone, si è girato, ha tirato ma ha tirato direttamente a lato. Ivo Nesto sta diventando veramente una spina nel fianco per questo Treporti. Quella che il giocatore stia bene. Bene, adesso partirà subito con palla contesa. Palla alta, quindi praticamente la giocherà sulle tre porti. Per cui palla subito da Finotello a Marco. Marco subito per Papai Soccol. Soccol passa donato ma viene fermato da Valentino. Palla Claudio. Claudio è spostato adesso sulla destra del campo. Toccata, dice l'arbitro da Finotello Claudio. Per cui palla per il Cavio. Dallapuppa passa subito per Valentino. Dall'altra parte del campo ma Marco Ballarino. Del primo tempo con un tira di punizione di Ivo Nesto. Scusate, ci avevano scritto sbagliato un nome. Praticamente per il Cavio era il numero tre, era Fabrizio Costantini e non Marco Ballarino. Ce la porta troppo in avanti per cui Gastaldi è un buon gioco per buttarla fuori. Ecco Papai Soccol sulla palla. Passa Finotello Claudio che si gira, tira. Grande Gastaldi Simone che riesce con una mano a portarla fuori. Quindi corner per gli altri porti. Ecco. Super la metà campo ma viene fermato da Claudio Finotello. Ecco Fabrizio. Passa Federico. Ubacco Mirco. Ubacco Mirco che ha sostituito Donato che era un po' stanco per cui ha deciso di essere sostituito. Ci sono un po' di numeri del tre porti che sono di un colore giallo. Quelli su sfondo bianco non si leggono molto bene. Mentre c'è metà squadra che è invece il colore giallo su sfondo nero che è molto più visibile. Ecco palla per Mirco. Mirco in avanti per Papai Soccol ma direttamente fuori. Ecco palla per Dallapupa che la lascia battere a Valentino. Valentino in avanti per Federico. Di nuovo indietro per Valentino. Dietro per Dallapupa. Dallapupa passa Fabrizio. Gol già fatto. Già fatto. Si è mangiato un gol clamoroso dei Rossi Federico. Davanti al portiere ha tirato fuori. Imbeccato da Lazzarini Massimo al centro dell'aria. Non è riuscito. Ha controllato benissimo la palla ma poi con un piattone l'ha buttata fuori. Sul centro dell'aria ma butta direttamente fuori. Ecco palla da Gastaldi a Federico. Federico indietro per Massimo. Lazzarini. Lazzarini viene avanti supera la metà campo. Passa Valentino. Valentino scivola in tira subito per Papai Soccol ma direttamente a lato. Ecco palla adesso per il cavio. Con Massimo Lazzarini in avanti per Federico che riesce a impattare. A fare subito gol. Controlla la palla. Si fa fuori Claudio Finotello. Anzi Carlo Finotello. E da solo in sacca in rete. Diciottesimo del primo tempo. Seconda rete per Dei Rossi Federico e quarta rete per il cavio. Quattro a uno il risultato. Ecco palla adesso contrastata da Finotello Claudio. Quindi fuori palla per Massimo Lazzarini che passa subito in avanti per Valentino ma è troppo larga e finisce fuori. Ecco palla che sarà giocata adesso il fallo laterale dal Carlo Finotello per Claudio Finotello. Di nuovo indietro per Carlo. Carlo per Papai Soccol che cerca di girarsi ma viene fermato da Dallapucco che prova un esterno improbabile che finisce alto sopra la porta difesa da Pagni Massimo. Palla avanti subito per Claudio Finotello per Papai Soccol. Soccol si cerca di girarsi ma viene fermato da Valentino. Valentino subito per Federico che non è nel tre quarti campo proprio del tre porti. C'è il terzo fallo ad opera del cavio quando siamo al ventiduesimo del primo tempo. Ecco Carlo Finotello passi in avanti per Mirko. Mirko in avanti per Papai Soccol che non controlla però cerca di recuperare Federico del cavio. Quarto fallo per il cavio. Ecco in avanti subito da Pagnin per Papai Soccol ma impatta dalla Puppa e dal portiere Gastaldi. E' approvato poi sul rilancio di Gastaldi subito un team. Ivo Nesto che fa sponda col petto per l'incursione di Valentino ma non riesce l'intesa tra i due. Siamo nelle fasi di recupero per noi il tempo è già scaduto. Ecco un fischio dell'arbitro finito il primo tempo regolamentale. Sono abbastanza anche rilassati. Probabilmente sentono che possono avere la partita in pugno e quindi giocano anche abbastanza rilassati con questa precisione come nelle partite precedenti. I tre porti d'accanto loro stanno cercando di impensierire ma purtroppo i terminali... Anzi è entrato Federico Costantini per Massimo Lazzarini. Quindi cambio tra le file del cavio. Inizia adesso il secondo tempo. 4 a 1 è il risultato per il cavio. Palla di Gastaldi in avanti subito per Ivo Nesto che controlla la passa indietro per Valentino. Valentino in lato per Federico che tira! Tira e gol. Gol di Federico Costantini. Federico Costantini. Scusate Fabrizio Costantini. In avanti per Ivo ma purtroppo non riesce a intendersi con il suo compagno Valentino che era già sfilato più avanti. Quindi adesso parla per Mirko. Mirko in avanti per Claudio che tira subito appena superata la metà campo ma alta sopra la traversa. finisce di nuovo tra i piedi di Finotello Claudio che fa un tiraccio e finisce a lato dall'altra parte del campo. Fabrizio per Ivo Nesto. Ivo Nesto si gira, supera Carlo, arriva avanti, tira! tre porti che ha già subito sei gol. Ecco subito tiro di Dalla Puppa che ha sfilato tra le sette le reti per il cavio contro una solamente messa a segno da altre porti. Ecco parla ora adesso, vediamo subito, infatti c'è appena arrivato un segnale, infatti che la linea era appena spassata. Ecco subito Ivo Nesto prova, prova subito ma non c'è riuscito. Parla allora da Pagnin per Claudio Finotello. Finotello va avanti, la passa Donato che è appena entrato al posto di Mirko Bubacco. Ecco entra anche per un cambio tra le file del cavio, entra Federico Dei Rossi per Valentino Molin. Ecco parla subito in avanti per Ivo Nesto. Facciamo anche, segniamo e mettiamo anche le reti per il tabellone del campo. Sì, oggi è così, ecco parte subito il cavio in avanti per Ivo Nesto, indietro per Federico. Federico cerca subito a innestare Fabrizio. È entrato Ballarin in difesa. Sì è entrato Marco Ballarin e adesso vediamo se la difesa terrà di più. ha sostituito Claudio, Claudio Finotello. Ecco dallo subito per Ivo Nesto ma troppo lunga la palla e sfila fuori. Sempre 7-1 il risultato. Siamo sì al dodicesimo. Del secondo tempo. Ecco parla adesso per i tre porti con Carlo Finotello che prova subito in le scarpe a Paesco Corma. Gli Stiele è fermato da Fabrizio, fa il massimo e poi riesce a tenerla praticamente dal palo addosso a Pagli Massimo e alla fine evitano il gol comunque. Ha preso il palo, il secondo palo del portiere interno, sembrava gol. Allo accorto della palla. Quando è partita sì che è entrata in gol. È stato un tiro veramente forte. Bene, il quattordicesimo, il quattordicesimo del secondo tempo segna... Sì passa indietro adesso per Dallapupa. Dallapupa passa avanti per Valentino, di nuovo indietro per Dallapupa. Siamo al centro del campo. Ecco Valentino supera a metà campo, passa a destra per Massimo Lazzarini che tira ma viene fermato da Marco Ballarini. Quanto riguarda il tre porto è un po' individualista come... A volte rocambolesco perché su contrasti viene fuori una palla buona e magari si riesce anche a far gol. Sì, dicevo che è individualista come partita, come zona di attacco appena hanno il pallone... Direttamente fuori. Ecco Gastaldi per Massimo Lazzarini che parte avanti per Federico, passa indietro per Dallapupa che però imbecca Papai Sokol che però non riesce a controllare. Finisce subito tra i piedi di Massimo Lazzarini che si fa fuori un giocatore, la passa al centro, la tira parata di Gastaldi. Papai Sokol cerca a prova in tutti i modi a fare ancora gol ma non riesce oggi a controllare bene il pallone ed è preda sempre della difesa del Cavio. Ecco, altro tiro di Papai Sokol ma finisce direttamente fuori. Ecco, toccata da quelli del Cavio per cui palla tirata da Carlo dalla parte all'altra del campo, di nuovo impattata dai giocatori del Cavio. Papai Sokol per Carlo Finotello, fermato da Fabrizio in fallo laterale. Carlo Finotello di nuovo al centro, fa un tiro ma non ha rete per il Cavio sul Treporti che è fermo a due. Abbiamo visto che ormai sono rassegnati. Altro gol appena battuto al centro campo, palla subito per Ivo Nesto che avanza di due parti, finisce fuori. Palla di nuovo per il Cavio, Ivo Nesto, passa indietro per Fabrizio Costantini, di nuovo per Ivo Nesto che supera la metà campo. Se tribla Marco Ballarin tira ma finisce a lato. Ecco, il compreso Federico imbeccato da Massimo Lazzarini che passa poi al centro per Ivo Nesto che va a portarsi a cinque i gol personali in questa partita. Cinque che va a As, quattro le reti segnate da Molin Valentino, due quelli di Dei Rossi Federico e uno di Costantini Fabrizio. È facile andare a vedere i marcatori per il Treporti dove c'è il Finotello Claudio con una rete e una rete Papai Sokolla. Ecco, sì, allora abbiamo per il Capasquali in porta Costantini Emiliano, Ballerina Emanuele, Amadi Christopher, Scarpi Micol, Danella Davide, Daninello Simone, Pastrello Giordi, Ballerina Thomas. Allora, parliamo comunque prima di questa partita, allora del finale della partita appena trascorsa tra Treporti e Cavio. Come dicevamo, il Treporti sembrava veramente l'ombra di se stesso. Esatto, non c'è una squadra giovane, abbastanza un po' come il Cadivalle, siamo più o meno con la stessa età, ma anche il Capasquali è giovane con Zaninello che è mattatore per la propria squadra. Beh, beh, anche Giordi Pastrello che ricordiamo che l'anno scorso è stato il campo cannoniere di Giordi Pastrello che finisce addosso a un avversario, gli carambola addosso, finisce sulla traversa e di nuovo addosso al giocatore Davide che insacca. Ecco, palla in avanti subito per Gianmarco Turchetto, ma purtroppo viene fermata da Thomas, riuscisse a tirare a rete. Ecco, Gianninello trova subito un tiro, viene buttata fuori da Pierazzo, da Pierazzo Davide. Ricordiamo che anche la squadra del Caballarini è nata da poco per questo torneo, quindi con la situazione il Capasquali, essendo di vantaggio, vale nuovo per Gianninello, Gianninello in avanti per Pastrello che è già tropezzato nella metà campo, viene fermato nella... Sesto minuto del primo tempo, siamo 1-0 per il Capasquali sul Caballarini, situazioni falli 1-1 tra le due squadre, tra i gialli del Caballarini e i viola del Capasquali. Pierazzo ora al tiro, direi più direttamente fuori, più che in porta, a 2-3 metri dal palo destro del portiere... Del Capasquali e Emiliano Costantini. Ecco, palla adesso per Davide Zanella, nella parte opposta per Ballarin Thomas, di nuovo per Gianninello per Thomas, esce in avanti per Giannini Pastrello che non riesce a controllare il pallone e quindi palla, pallo laterale verrà battuto adesso dal Caballarin con Andrea Zanella che passa per Turchetto. Ah, non c'è intesa, mancata l'intesa, è bello il gioco del Capasquali che fanno girare la palla all'altezza della metà campo, finché trovano quel primo tempo, gol di Pastrello Giordi. Giordi si gira e tira. 2-0 per il Capasquali sul Caballarini. Ecco, Pierazzo Davide per Scarpi, di nuovo per Davide, di nuovo per Scarpi che però finisce, non riesce a... Di nuovo cerca di ubriacare gli avversari, passa a Simone Zanilello che viene fermato da Andrea Zanella. Il fallo laterale, fallo laterale che verrà battuto dal Capasquali, ecco Simone Zanilello per Giannini Pastrello, di nuovo per Simone Zanilello, indietro per Thomas Ballarin, in là del varco giusto. Ecco Simone Zanilello cerca di andare in avanti, ma Smerghietto lo ferma. Ecco, palla di nuovo però recuperata da Davide Zanella, passa Thomas, Thomas per nuovo per Davide, Davide si sposta al centro, passa di nuovo indietro per Thomas, per Giordi Pastrello, giordi tira, cerca di nuovo Simone Zanilello, che si era liberato, bene. Direttamente da Scarpi a Gianmarco. Sì, era un po' ferma la difesa, cambio. Cambio di fallo laterale, quindi è entrato adesso per il Cavallari, il giocatore. Ecco Pierazzo prova il tiro, ma viene fermato da Davide, che carambola poi sulla schiena del proprio portiere. Ecco Simone Zanilello dall'altra parte per... Di tacco fuori. Giordi Pastrello che di tacco tenta di far gol, ma finisce a lato di poco. È il passaggio che Zanella doveva andare a Simone Zanilello, fermato da Ludovic. Vediamo che in panchina c'è il catto con una stampella, che ovviamente non è in tenuta da gioco, fa compagnia ai propri compagni. Eh, si vede che... Quindi pulizione da dieci metri dalla porta difesa da Simone Filetto. Ecco sulla palla Simone Zanilello. Ecco, tira direttamente in porta, ma impatta sulla barriera, ma Pierazzo lo ferma in fallo laterale. Ecco, palla di nuovo per i capasqualli, ma il... Palla deviata forse. Sì, da Simone Filetto. Ecco, palla a caccia d'angolo, battuta da Giordi Pastrello, finisce tra i piedi di Simone Zanilello che tira, ma tira direttamente a lato. Sì, un tiro si è inserito velocemente, ma... No, va bene. Si è inserito velocemente, però il tiro è stato... E' stato fuori. E' tirato direttamente fuori, al lato della porta difesa da Simone Filetto. Ecco, palla per i caballarini, cosmerghetto per Pierazzo Davide. Davide in avanti per Andrea Zanella, che tira subito, ma la palla finisce adesso fuori. Buttata fuori poi da Pierazzo D'Alla a Thomas Ballarini. Ballarini nuovo per Davide Zanella. Avanti per Giordi Pastrello. Giordi Pastrello in avanti per il nuovo entrato, il numero due, per i cabasqualli, che non abbiamo. Sostituito Simone Zaninello. Ecco, di nuovo in avanti per Ballarini, dietro per Davide Zanella, che passa avanti, tira, ma blocca Davide Perazzo. Però di nuovo prende il palla Giordi Pastrello, che di nuovo va avanti. Autogol di Perazzo. Per Pierazzo, ma sulla linea recupera Cristoffer e butta fuori. Peccato, potrebbe starci, esatto, anche un gol per il Caballarini. Ecco, Andrea Zanella si gira tra due uomini, ma viene fermato fallosamente. Anzi, sui tiri di Zaninello e Pastrello, chiude bene la porta, ma su questo tiro non ha potuto farci nient'altro. 3-0 il primo tempo. Adesso continuiamo ad avere qualche piccolo salto di diretti. Adesso proviamo a controllare. Pastrello e Cristoffer, il Capasquali non ha cambiato nessun giocatore, invece il Caballarini ha sostituito il giocatore Ludwig con il numero 8, scarpa Gianmarco. Ecco, Gianmarco riesce a recuperare palla. Avanti per Cristoffer, ma fuori. La palla non è riuscita a tenerla dentro Cristoffer. Cristoffer Amadi, quindi palla adesso per il Caballarini. Ecco, Turchetto subito in avanti per Pierazzo, ma non riesce a controllare. La palla finisce fuori. Davide Zanella adesso a impensierire il portiere del Capasquali. Ecco, tiro di Turchetto che però viene fermato da Davide Ballarin e adesso finisce a scarpa. Scarpa di nuovo per, di nuovo, palla lunga ma che finisce direttamente fuori. Ecco, palla per il Cabasquali con Thomas, in avanti per Giordi Pastrello, di tacco per Simone Zaninello ma viene fermata dai giocatori del Caballarini. Ecco, Pierazzo per Turchetto, Turchetto di nuovo in avanti per Pierazzo, ma fermato da Attuali. Ecco, che è stato adesso anche sostituito da Simone Zaninello. Ecco, palla per Giordi Pastrello che però se la porta troppo lunga e finisce fuori. Quindi palla adesso che verrà battuta da Simone Felletto, palla per Pierazzo Davide. Quindi un'intervista a qualche portiere andrebbe bene. Andrebbe fatta. Andrebbe fatta. Vediamo se a fine gara ci rilasciano. Ecco Simone Zaninello, indietro per Davide Zanella, indietro per Thomas Ballarin, di nuovo per Davide. E' in pensierire più di tanto la dico. Davide Zanella, davanti per Giordi Pastrello, indietro per Thomas Ballarin, di nuovo a destra per Giordi Pastrello, in avanti per Simone Zaninello che passa indietro per Thomas Zanella. Sì, ormai fanno girare la palla. Fanno girare la palla. Il possesso di palla è enorme per i capasquali che con facilità fanno girare. La difesa è ben piazzata però, lo stesso del Caballarin. in effetti tutto questo girare di passaggi non ha portato a niente, è un tiro fuori Caballarin che riprende. Diciamo che ci aspettavamo la ola del pubblico ma niente. Ecco Giordi Pastrello si gira, tira ma impatta. 5-0 esatto il punteggio di questa partita che chiude l'ottava giornata dell'ottava giornata di questo torneo, o tredicesimo torneo della palla. Devo dire che il Caballarin si merita almeno un gol. Almeno un gol, il gol della bandiera. e forse anche non solo uno perché stanno veramente giocando un buon calcio. Cercano almeno, anche se il Cabasquali è su una. Di nuovo Andrea che viene avanti, passa a Smerghetto che tira e Emiliano Cosantini. In due tempi sembrava aver separato invece se l'è portato direttamente fuori. Quindi calcio d'angolo che era battuto dal Caballarin. Ecco, palla di Smerghetto che viene di nuovo buttata fuori dai giocatori del Caballarin. La passa Pierazzo Davide, contrastato da Giordi Pastrello. Riesce a passarla a Ludwig. Di nuovo per Smerghetto. Smerghetto in avanti per Andrea Zanella. Andrea Zanella per Smerghetto. Mirko? Mirko di nuovo per Ludwig. Ludwig per Pierazzo che tira e impatta addosso a Simone Danetto. Smerghetto. Mirko che però finisce fuori. Smerghetto Mirko, sì scusi. Ecco, palla adesso per Giordi Pastrello. Giordi Pastrello superavete a campo da solo se la porta direttamente fuori a lato. Quindi palla che verrà battuta dal Caballarin. Perché quella maglia di Smerghetto Mirko con quel due che si vede non si vede sembra anche un... Il compagno Ballarin Thomas. Thomas avanti, no, per Simone Daninello che ha tu per tu con il portiere. Non riesce ma Giordi Pastrello ha dribblato anche il portiere. Ma non è riuscito a impattare con la palla. Quindi in un passaggio, in un fortuito indietro, Giordi Pastrello la butta direttamente fuori. Poi perde palla e il Peo tira alto sopra la traversa. Ecco, palla per Ludwig. Ludwig per Turchetto. Turchetto passa di nuovo a Ludwig. Ludwig di nuovo indietro per Andrea Zanella. Andrea per Turchetto. Turchetto gioca, palla per Ludwig. Palla di Thomas Ballarin per davanti, per Giordi Pastrello. Ma finisce tra le mani subito di Simone Feletto. Ecco, Scarpa. Già Marco per Turchetto. Che tira, ma impatta addosso alla spalla del giocatore Thomas Ballarin. Per cui finisce in angolo. Ma che verrà battuta adesso dal Caballarin. Che ha dato una buona impressione. Ecco, Giordi Pastrello cerca il tiro, ma trova le gambe di Scarpa Gianmarco. Ecco, è entrato adesso Davide Zanella per il compagno Peo. E adesso Zanella, che però poi la porta fuori con sé. Ecco, palla per Simone Filetto che la lancia. Cerca un lancio improbabile per Andrea Zanella, ma è troppo lunga per il giocatore. Ecco, palla da Emiliano a Simone Filetto. Palla subito del Caballarin battuta. Ecco, Andrea Zanella per Smerghetto. Smerghetto per Andrea, Andrea per Turchetto, ma Turchetto scivola a terra. Era anche troppo indietro, troppo arretrato del passaggio. Ecco, Simone Zaninello imbeccato da Giordi Pastrello sul capovolgimento di fronte. Zanella viene fermato da Andrea Zanella. Palla per il Caballarin, dice l'arbitro Manuel Cimadona. Ecco, Turchetto viene fermato. Il Caballarin Thomas è di Pastrello Giordi. Una rete del numero 8 Zanella Davide e una rete del numero 10 Zaninello Simone e un autogol di Pierazzo della Caballarin. Per il Caballarin, che ha solo due reti, segnate da Turchetto Gianmarco e da Smerghetto Mirko. Ammonito è stato Turchetto Gianmarco, unica munizione della partita.